signori buongiorno e bentornati sul canale del master k e io sono il master k e il vostro ospite su questo canale andiamo avanti con la serie estiva di modellismo questa settimana avremo un bel po di robe da vedere quindi taglio corto e andiamo direttamente a vedere come realizzare la struttura interna e i pavimenti per il modello per dare maggiore stabilità alla struttura ho deciso di fare all'interno un'armatura di cartone tecnicamente questo è un passaggio che si potrebbe anche evitare il polistirolo una volta appiccicato è abbastanza robusto da sostenersi da solo ma dato che questi oggetti scenici probabilmente dovranno essere spostati da una parte all'altra avere una struttura rigida all'interno è comunque preferibile in più avere un muro su cui appiccicare i mattoni da un punto di contatto in più e quindi rende tutta la struttura più stabile per realizzarlo ho semplicemente preso un pezzo di cartone ondulato questo credo venisse da un pacco di amazon e ho tagliato una striscia alta 3 che è poi l'altezza che dovrà avere la nostra torre in questo caso merita essere un attimo più precisi con le misure perché dato che dalla misura di questo dipenderà poi la misura di tutto il resto perderci anche quei cinque minuti in più per fare le linee dritte assicurarsi che tutto sia la corretta altezza non è in realtà una perdita di tempo mettiamola così invece di limitarmi a piegare il cartone ho fatto poi una serie di tagli a un pollice uno dall'altro in modo da sapere già prima dove il cartone si sarebbe piegato questo aiuterà poi a piazzare la prima linea di mattoni quella della base e mi raccomando quando fate questi tagli fateli sempre su quello che dovrà essere il lato esterno della struttura se voi piegate il cartone direttamente quello che succederà è che nella parte centrale il cartone verrà compresso in pratica vi mangerà qualche millimetro e su una struttura come questa che è effettivamente abbastanza grossa lo scarto finale potrebbe diventare anche di qualche centimetro tagliando sul lato esterno avete la sicurezza che in realtà le misure rimarranno quelle che sono in realtà non è un errore così grave e non è che a non potrete più costruire se non lo fate ma vi risparmierà un bel po' di rogne in futuro una volta finito di tagliare quello che diventerà la struttura interna del muro ho poi controllato che avesse le dimensioni corrette sulla base che abbiamo già misurato nello scorso video e soprattutto ho segnato dove avrebbero dovuto iniziare le scale perché questo sarà solo il primo di una serie di rinforzi che dovranno esserci all'interno una volta assegnate dove saranno le scale come dicevo quello che bisogna fare è prendere scalino per scalino qua le misure saranno farzate e nel mio caso i scalini non regolari non necessariamente lo sarà nel vostro e segnare sul cartone dove il singolo scalino rimane tra l'altro quando siete in questo passaggio cominciate già a segnare quale sarà l'altezza che il singolo scalino dovrà avere perché se nel semicerchio frontale tutto sarà alto 3 gli scalini in quanto scalini saranno a scalare e quindi ogni scalino dovrà essere mezzo pollice più basso di quello precedente cominciate già a segnarlo mentre state prendendo le misure in modo da essere più precisi e non rischiare di sbagliare se a questo punto sbagliate le dimensioni degli scalini dovete ricominciare tutto da capo e questo vi farà perdere un sacco di tempo una volta che avete tracciato tutti gli scalini uno per uno non vi resta che ritagliarli in modo da creare la struttura completa del bordo esterno e poi una volta creata ricontrollate per sicurezza e con la colla a caldo incollatela su quella che poi sarà la base qui usate proprio la colla a caldo perché non solo dovete lavorare in maniera veloce ma la struttura dovrà anche rimanere particolarmente rigida il vinavil sicuramente non ha la forza per reggere una cosa del genere e anche le varie colle per carta magari usando dei contraforti reggerebbero ma ci vorrebbe molto più tempo e la struttura rimarrebbe comunque molto più instabile la colla a caldo invece vi dà un attacco molto forte e in tempi estremamente brevi la nostra struttura però non si limiterà al bordo esterno quindi prima di tutto dovete inserire anche quella che sarà la parete di mezzo in questo caso io non ho messo un singolo strato di cartone ma in realtà ne ho messi due e li ho resi separati l'uno dall'altro da una serie di spessori interni questo perché in questo modo sotto verrà a crearsi un binario in cui potrò mettere più colla a caldo questo sarà il pezzo centrale su cui andrà a scaricarsi la maggior parte del peso di tutta la struttura quindi volevo essere estremamente sicuro che reggesse non si spostasse e non ci fossero problemi di sorta una volta della struttura poi dovrà essere montata questo è un altro di quei casi in cui misurate due volte prima per evitare problemi dopo comunque una volta che siete sicuri che il pezzo regge è stabile mettete colla in abbondanza tanto quella in eccesso verrà assorbita nel binario in realtà renderà l'attacco ancora più stabile e poi fissate la parete centrale una volta fatto questo ci sono poi gli ultimi dettagli cioè mettere il muro quello interno dove ci dovranno essere i mattoni quelli che corrono intorno alla scala e a mezzo pollice da esso dovrà esserci la struttura speculare della scala cioè quella che dovrà andare a reggere l'altro bordo dei gradini queste dovranno essere proprio due strutture separate appunto perché una servirà a reggere i gradini e l'altra invece servirà come fondo su cui attaccare l'altro lato dei mattoni una volta che saranno stati ritagliati ricordate che i mattoni devono essere sia da un lato che dall'altro lato della scala ora che la struttura di base è pronta bisogna passare a creare quelle che poi saranno le superfici su cui dovranno essere appoggiate le miniature possiamo dire creare i pavimenti per farlo io mi sono creato una sagoma che poi avrei usato per guidare i tagli ora tecnicamente dovreste già sapere qual è la dimensione finale del pavimento ma io vi consiglio come vedete qua nel video di riprendere la misura non dalla misurazione teorica che avete fatto per la base ma dalla misurazione effettiva di quello che è la struttura che avete montato è possibile che aggiungendo pezzi si siano venuti a creare degli sfasi magari anche solo di qualche millimetro ma in questo modo sarete sicuri che il pavimento si appiccicherà in maniera precisa per esempio io qua ho notato che in realtà dato che ci sono le scale e loro muretto di lato il lato in cui le scale si attaccano alla parte superiore è leggermente più stretto rispetto all'altro quindi il semicerchio interno del pavimento non è esattamente a metà del cerchio ma è spostato da un lato se mi fossi basato esclusivamente sulle misurazioni che ho preso all'inizio a questo punto io mi sarei trovato con il pavimento che in realtà era per qualche millimetro ma comunque spostato rispetto alla struttura che stavamo poi andando a costruire una volta creata la sagoma l'ho poi usata per andare a ritagliare sul cartoncino vero e proprio quelle che saranno le effettive superfici d'appoggio nel nostro caso ci sarà il grosso semicerchio che farà da tetto della struttura e poi i cinque scalini che serviranno per accedere al tetto prima di andare oltre controllatevi aver preso le misure in maniera corretta appoggiandolo semplicemente sopra non è stabile ma se avete fatto un buon lavoro tutto dovrebbe appoggiarsi uno sull'altro senza problemi ora cominciamo a dare un po di texture a quella che sarà poi la torre finale perché per adesso abbiamo semplicemente lavorato con superfici lisce che dall'esterno poi non si sarebbero viste e per farlo utilizzeremo il cartone sottile dato che ho deciso che i pavimenti della torre saranno in griglia metallica lo so è una scelta strana ne parleremo poi meglio nel prossimo video lo so è un accostamento strano torre in mattoni con pavimenti a griglia metallica ma ne parleremo poi nell'ultimo video quello dedicato alla pittura non voglio perdere tempo adesso anche qui per essere sicuri di aver preso le misure corrette usate poi letteralmente le sagome di cartone che avete creato come base per tracciare quella che sarà poi la sagoma della texture questa non è una parte che avrà un suo effettivo valore strutturale nulla reggerà qua questo è un lavoro puramente estetico per rendere più interessante la superficie e non fare semplicemente una griglia piatta continua ma creare delle divisioni tra uno spicchio e l'altro per dare un po di texture alla superficie io qua ho scelto appunto una griglia raggera perché continuava lo stesso motivo degli scalini in realtà qua potete sbizzarrirvi fare qualunque forma vi sembra interessante magari potreste anche creare dei simboli specifici per qualcosa dell'ambientazione che usate per giocare o dell'esercito di miniature che usate il bordo esterno sarà largo un pollice mentre gli spicchi interni saranno di mezzo pollice questo perché il bordo esterno sarà molto coperto dai mattoni e io voglio che comunque un pezzo resti fuori e si veda che non è griglia fino all'attacco anche in questo caso è puramente una questione estetica a me piace di più così voi nel caso cercate replicare il progetto fate quello che a voi piace di più una volta creata la griglia non vi resta che ritagliarla in questo caso sempre usando una taglierina affilata per evitare di piegarla se cercate di tagliare l'interno con le forbici solo una cosa da ricordare sul bordo dove ci saranno le scale lasciate una linguetta che sporca questo perché servirà a coprire il cartone sotto in modo che una volta che la struttura sia montata e dipinta sembri un unico blocco e non si veda che è semplicemente qualcosa appiccicato sopra per gli scalini ora dato che la parte superiore in realtà sono due semicerchi un incollato all'altro si sarebbe visto il taglio tra un bordo del cerchio e l'altro e personalmente lo trovavo antiestetico qui ho semplicemente ritagliato un altro cerchio di carta e l'ho appiccicato sopra in modo che il taglio non si veda più adesso è evidente che c'è un pezzo in più incollato lì sopra ma una volta che tutto sarà dipinto dato che resterà dello stesso colore del fondo non si noterà più e sembrerà che il tetto sia un unico pezzo per quanto riguarda gli scalini ho usato esattamente lo stesso procedimento ho preso uno scalino per riferimento per fare la sagoma e poi ho tagliato tutte le sagome in modo da dare un bordo a ogni singolo scalino in questo caso lasciate delle linguette per poterlo avvolgere sotto il cartone sia da una parte che dall'altra non solo serviranno a coprire il cartone sotto e far sembrare che tutto sia un unico blocco ma avrete anche una maggiore superficie d'attacco per la colla che aiuterà a rendere il tutto più stabile e eviterà che poi la parte di carta si strappi o voli via quando poi utilizzate effettivamente il modello una volta che tutte le sagome sono pronte prendete semplicemente il nastro telato e io per evitare di sbagliare ho riportato a matita quali saranno le zone in cui effettivamente si vedrà la griglia in questo modo mi era molto più facile sapere dove tutto questo sarebbe dovuto andarsi ad attaccare qua ovviamente dipende dalla forma che avete deciso di dare al vostro pavimento comunque per il nostro caso poi preso il nastro telato e l'ho appiccicato nelle zone in cui volevo che risultasse una griglia gli ho dato anche in questo caso una forma a raggera cioè ogni pezzo è stato appiccicato in modo che la griglia fosse dritta solo da quella parte lì anche questa è una questione estetica potete anche semplicemente avvolgere tutto il pezzo il nastro telato a me francamente non piaceva come veniva quindi ci ho perso quei cinque minuti in più per renderlo esteticamente più gradevole decidete voi se una bizzarra forma di autismo da parte mia o se effettivamente ne meritava la pena per una superficie così grossa avreste anche potuto utilizzare il metodo di usare una rete di plastica unica che poi avreste incollato sopra nel primo video di questa serie ho fatto vedere come farlo usando la retina di un sacchetto di arance ovviamente tutto questo ha senso se decidete di fare il pavimento a griglia questa è comunque una questione puramente estetica quindi potreste anche decidere di fare un pavimento a parquet o di mettere delle mattonelle magari di dividere la griglia a scacchi se la usate esclusivamente come mappa tattica per il gioco di ruolo comunque una volta che siete soddisfatti del risultato con la vinilica e appiccicate la parte superiore della griglia a quello che avete fatto in modo da renderlo un blocco unico qua non dico non esagerate mai con la colla perché sennò sbava ma fate attenzione qua la presa deve essere decisamente salda quindi mettere un po più di colla non è una cattiva idea una volta che avete incollato il tutto poi lasciatelo ad asciugare sotto qualcosa di pesante in modo da essere sicuri che tutto rimanga poi livellato a livello del terreno una volta che andrete ad appiccicarlo e diciamo che per questo video è tutto forse ho esagerato ma diciamo che non potevo fare un argomento senza parlare dell'altro i prossimi video saranno in dimensione un attimo più contenuti comunque come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo creduto a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche in descrizione trovate il link al server di discord al gruppo i telegram se volete restare in contatto con la community io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video